Sì, perché la nostra vita sia simile come un ponte, che man mano che facciamo le esperienze saliamo, 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 per riuscire ad andare là, oltre, dove l'esistere ci aspetta. Ora, capendo che noi siamo esseri destinati all'infinito, all'astralità, all'esistere, che vivono ed esistono in noi, siamo ciò che loro sono, una sola vita, due dimensioni, due realtà. Che crescono, si innalzano, per essere nell'esistere.